Salve a tutti, parliamo del concetto di transazione fiscale. Innanzitutto la transazione è uno strumento che è diretto alla ricerca di una soluzione comune che concili l'amministrazione finanziaria e le imprese a rischio di fallimento. Infatti si ricerca proprio di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia delle imprese che si ritrovano nella fase più acuta di crisi economica, evitando così il rischio di un loro fallimento. Soprattutto nella situazione aggravata poi dalla pandemia Covid-19 sono state richiesti degli interventi molto incisivi in materia, sia nella materia della crisi di impresa quanto nell'ambito fallimentare. e sono stati sanciti attraverso la legge del 27 novembre del 2020, la numero 159, la quale va a modificare gli articoli 180, 182b, 7r della legge fallimentare ed ha lo scopo dunque di facilitare le procedure concordatarie. In realtà nell'ambito della transizione fiscale, è giusto chiarirlo questo, si assiste ad una vera e propria deroga del tradizionale principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Ossia, questo principio generalmente sostiene che l'amministrazione finanziaria non possa tramite degli accordi interni rinunciare a dei tributi che le sono dovuti per legge. Ma in realtà la transazione fiscale permette una deroga a suddetto principio proprio allo scopo di evitare per quanto possibile il dissesto delle imprese che si ritrova e che riversa in una situazione di crisi economica, prevedendo nel fallimento. E dunque c'è un contemperamento di un interesse altrettanto meritevole di tutela. Ma parliamo di quali modifiche sono state apportate quindi con la legge e le modifiche e gli interventi agli articoli 180 e 182b, 7r. Innanzitutto si è predisposto un piano di concordato e di ristrutturazione dei debiti tale per cui l'imprenditore in crisi può presentare una richiesta all'amministrazione finanziaria in cui propone di effettuare una transazione fiscale attraverso la quale si permette il pagamento in maniera totale o parziaria dei tributi. All'esito la transazione fiscale vede nella sua chiusura o un'adesione o un diniego da parte dei creditori che devono quindi esprimere la loro votazione quindi un'approvazione o un diniego rispetto alla proposta effettuata dal soggetto debitore. La legge 159 del 2020 stabilisce proprio che i debitori proponenti potranno comunque superare la non adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle rispettive maggioranze di cui all'articolo 177 o comunque delle percentuali. Quindi il Tribunale potrà andare comunque ad omologare la proposta effettuata dal soggetto contribuente per l'appunto quella di transazione fiscale anche senza il consenso necessario preventivamente previsto nell'amministrazione finanziaria ove però la proposta sia per l'appunto determinante per il raggiungimento della maggioranza dei creditori o classi di creditori che la legge fallimentare richiede i fini dell'approvazione. Questo consende che cosa sostanzialmente permette a tutti i soggetti di superare la fase più acuta di emergenza economica andando a permettere una ristrutturazione dei debiti anche senza la necessaria approvazione del fisco in modo tale da poter superare anche le eventuali ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate perché è proprio quello su cui insiste infatti la riforma facilitare le procedure concordatarie.